E beh, mi tocca questa, le conclusioni. Come si tirano le somme di un'assemblea così, di un percorso così come è stato quello dell'ultimo mese? Secondo me la prima cosa che ci dobbiamo dire è che noi qua stiamo a fare una cosa chiara, cioè a stringere un patto che ha delle regole semplici che sono poche e sono quelle che sono state dette da tutti quelli che sono saliti su questo palco oggi, di essere uniti, di darci fiducia, di andare avanti con determinazione, di non avere paura. Non è poco, è già un programma politico questo. È già questo tutta la nostra storia. A questo patto non ci costringe nessuno, se non le circostanze, se non l'urgenza a cui tutti quanti siamo chiamati. È un patto, facendo una citazione traslata, ma è un patto fra uomini liberi. E io spero che fra uomini liberi e donne libere come siamo stasera ci ritroviamo e ci ritroviamo fra un mese, fra due mesi, fra anni per continuare a lottare insieme in tutte le forme, non soltanto quella elettorale, non soltanto quella davanti alle fabbrici o per le battaglie ambientaliste, ma per tutte le problematiche e le questioni che affliggono questa società. Noi siamo la parte migliore del Paese, non quelli che stanno qua dentro, ma il popolo che noi rappresentiamo, quelli che non comandano, quelli che non parlano, quelli che non hanno il potere, quelli che non hanno deciso le guerre, quelli che non hanno deciso lo sfruttamento, quelli che non si sono mai messi i soldi in tasca. Io so che probabilmente sarà difficile rivederci prima di qualche tempo in un'altra assemblea così, in un'altra assemblea nazionale e quindi vorrei dire due, tre cose che sono quelle che probabilmente dobbiamo provare a fare nelle prossime settimane. Intanto continuare con le assemblee, le assemblee territoriali che sono state la nostra forza, il nostro potere fine adesso, cioè essere in tante città, su tanti territori e lasciare le persone libere di parlare, di esprimersi, di dire cosa volevano, libere di partecipare. Questa è stata la nostra forza e su questa forza dobbiamo continuare a battere da oggi in poi. Si è parlato delle candidature, si è parlato di come andare avanti. Per me è semplice, è la cosa più semplice. Si tratta di far decidere chi quelle assemblee le anima, chi quei territori le vive. Basta né più né meno di questo. Non abbiamo bisogno di metterci d'accordo, non abbiamo bisogno di decidere da qui come fare, chi lo deve fare e chi lo deve dire. Saranno quelle assemblee a decidere tutto. Per noi la cosa importante è che questi sono i punti sui quali vorremmo battere, sui quali batteremo nelle assemblee in cui siamo direttamente e speriamo che anche gli altri compagni vogliano raccogliere questo invito e che ci sia discontinuità. Discontinuità non significa necessariamente persone giovani, lo si diceva prima. Ci sono delle persone giovani che ragionano da vecchi, da opportunisti e ci sono delle persone non più giovani che invece hanno forte lo spirito rivoluzionario. Noi vogliamo queste persone, vogliamo che vengano con noi. Anche se oggi non si riconoscono immediatamente nella nostra idea, le dobbiamo andare a conquistare. Vogliamo che ci siano le donne e non perché siamo le foglioline, siamo le quote rosa, ma perché noi le lotte le facciamo, sui territori ci siamo, le mani ce le sporchiamo e quindi ci dobbiamo essere. si tratta di far diventare una realtà effettiva, visibile, una realtà che c'è già e mai che è invisibile. Il fatto che le donne ci sono, che i giovani ci sono, che non sono assegnati. Questo già deve diventare visibile a tutti e noi ci dobbiamo impegnare per far sì che a partire dai territori questo diventi una realtà di fatto. Si è parlato di raccogliere le firme. È vero, non è facile, ma è quello che noi facciamo tutti i giorni, né più né meno, stare in mezzo alla strada e stare in mezzo alla gente. Chi sta sul posto di lavoro lo farà sul posto di lavoro, chi lo fa come centro sociale e con le sue attività sociali lo farà così. Noi, ho visto prima, prima Ramiano di Catania diceva noi siamo troppo giovani per candidarci eppure ci crediamo in questa sfida, vogliamo prenderla tra le mani. Ebbè, io dico a Damiano che è di Catania e che quindi come me conosce le osanze terrone. Mo' viene Natale. Voi lo sapete a casa di un terrone a Natale quanta gente ci sta. Se noi già parliamo con tutti i nostri parenti a Natale, noi già abbiamo fatto tutto. Non è che abbiamo raccolto le firme. Abbiamo già superato pure lo sbarramento. Non c'è problema. Iniziamo a parlare con i nostri parenti. È la prima volta che, lo diciamo spesso questa cosa nelle assemblee, ma è proprio così, che quello che noi andiamo a dire è talmente facile, è talmente giusto ed è talmente sentito che noi non abbiamo il problema di andare a spiegare che cosa vogliamo. Perché la gente lo sa già. In questa assemblea si è detto 50.000 volte. Vogliamo lavorare senza essere sfruttati. Vogliamo non dover essere costretti a emigrare. Vogliamo non essere discriminati. Vogliamo che il nostro territorio non venga distrutto. Non è che vogliamo cose complicate. Le vogliono tutti. Le vogliono tutti. Dobbiamo solo andarle a dire. Io penso che quindi questa sia la parte, come dire, più entusiasmante, più bella, che non c'è bisogno di essere intimoriti da questa cosa. Io so, qui si è detto spesso, più di un intervento, lo ha riportato ed è vero. Sarà difficile che in qualche modo ci tengano in considerazione, che usciamo sui media mainstream. Si è detto giustamente prima che dobbiamo obbligarli a parlare di noi. Io dico che questo è vero e che sicuramente ce la faremo. Però voglio dire anche un'altra cosa. E per dirla mi rifaccio. Lo abbiamo fatto anche alla scorsa assemblea una tradizione nobile che ci appartiene e che in qualche modo alla quale possiamo continuare ad ispirarci. È quella delle lotte contro il colonialismo. Perché noi siamo un po', come devo dire, colonizzati come popolo, perché siamo privati di ogni diritto, perché siamo privati del diritto di parola, perché ci spogliano delle nostre tradizioni. Mi rifaccio a un autore che a me sta a cuore, che è Franz Fanon. E lui parlava, parlando ai dannati, che era un termine eterodosso, come per molti è eterodosso popolo, ma che voleva dire di più di proletariato e non di meno, che voleva cogliere il cuore di quella faccenda. E beh, lui parlando ai dannati, a tutti quelli là che nei paesi colonizzati, sfruttati del cosiddetto terzo mondo dicevano, ma noi non abbiamo i cacciabombardieri, ma noi non abbiamo le armi, ma noi non abbiamo la capacità di contrastare effettivamente con i mezzi che abbiamo il nostro nemico. Io dico questo, qua non ci sta una questione di battaglia che si vince o che si perde. Qua ci sta una questione di trovare la tattica vincente, quella che è giusta per noi. E se non possiamo fare la guerra, allora, e parlo per metafora perché qua sotto elezioni bisogna stare attenti, allora facciamo la guerriglia, cioè andiamo casa per casa, non utilizzando gli strumenti loro, perché noi su quel campo lì saremo sempre a fare degli sconfitti. Se gli algerini, se a DMP avessero utilizzato le armi del nemico avrebbero perso, avrebbero perso perché non ce le avevano quelle armi e quelle poche che avevano erano spuntate, loro hanno usato le armi loro e noi queste armi le teniamo. Sono le armi di chi sta dalla mattina alla sera a combattere fianco a fianco con quel popolo che noi oggi abbiamo anche la pretesa e il desiderio di rappresentare e che quindi si fa conoscere, le persone sanno tu chi sei e noi possiamo utilizzare quelle armi, quelle di andare casa per casa, persona per persona, a riprenderci il nostro popolo. Quello dobbiamo fare. Non ci illudiamo che se utilizziamo le parole degli altri, i simboli degli altri, i volti degli altri, allora vinceremo. Ci abbiamo trovato tante e tante volte e siamo usciti sempre sconfitti perché eravamo sempre una versione economica da discount di quello che qualcun altro aveva come versione alfa e noi eravamo non la versione beta ma la versione omega di quello che qualcun altro ci voleva dare. Noi siamo un'altra cosa e abbiamo una cosa che nessun altro ha. Se noi ci contiamo qua dentro, noi qua dentro non siamo simpatizzanti di un movimento, non siamo elettori, noi siamo militanti. Essere militanti è un'altra cosa. perché io so che da domani, anzi da oggi stesso, tutti quelli che stanno qua dentro andranno per le strade e andranno a combattere per la loro idea, per portare avanti anche questa campagna. Ma chi lo può dire questo? Renzi lo può dire, Bersani lo può dire, Berlusconi lo può dire. Loro hanno della gente nei teatri che il giorno dopo va in giro, va per le strade e va a combattere per le loro idee. Non ce l'ha nessuno, questo ce l'abbiamo solo noi, soltanto noi, questa è la nostra forza. E allora se ci possiamo prendere le armi del nemico in termini di tecniche, di visibilità, prendiamocene, ma se non ce le possiamo prendere, se i media, mainstream ci ignoreranno, se non riusciremo a sfondare da quel punto di vista, non mentiamoci paura perché noi dobbiamo sapere che noi teniamo una cosa che non c'ha nessuno. La convinzione delle nostre idee, un disinteresse e una mancanza assoluta di calcolo che non ha nessuno, è una follia che non può che essere contagiosa. Noi ce la faremo, potere al popolo! Lontare, creare, potere al popolare! Lontare, creare, potere al popolare! Lontare, creare, potere al popolare!